Che carino vorrei tantissimo provarci Purtroppo nel kit di Tiger che avevo acquistato non c'è la foglia Però c'è questa fantastica luna Andiamo a farla Le istruzioni dicono che devo fare un nodino E poi iniziare ad arrotolare lo spago intorno a tutta la struttura di ferro Facciamolo Allora si sta rivelando più difficile del previsto Perché per ogni giro devo letteralmente far passare tutto il filo che è lunghissimo Quindi dato che mi serviranno anche 14 pezzettini da 10 cm l'uno Andiamo a tagliarli Così magari mi semplifico un pochino il lavoro Ok ora che sono pronti posso continuare In realtà non mi ha semplificato per niente la vita Quindi facciamo un salto temporale in cui avrò finito di ricoprire questa cosa Ora va meglio Riprendiamo le istruzioni per capire cosa devo fare con quei pezzettini che ho tagliato Ehi ma aspetta un attimo Cavolo non dovevo ricoprirla tutta ma solo la parte interna Ah eh Smontiamo tutto Ok Adesso devo soltanto annodare tutti quanti quei pezzettini Pettinarli Tagliarli E dopo mille per i pezzi la nostra luna è pronta Che dite devo provare a fare anche gli altri o sono completamente negata?